Padova è una situazione singolare rispetto alle altre città d'Italia perché è l'unico caso dove la Prefettura ha deciso di mettere una tendopoli proprio in centro storico all'interno delle mura del 1500 quindi una cosa pazzesca c'erano all'inizio 500 clandestini all'interno adesso siamo a più di 400, quasi 500 adesso quindi questo è un monito a tutti quanti i sindaci che parlano di micro accoglienza